Buon pomeriggio a tutti, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. Grande fratello VIP, Alessandro, ballo proibito con soleil e frasi maschiliste a sofficco de goni. Scopriamo nei dettagli che cosa è accaduto nella notte di Capodanno. Nella notte di ieri, nella casa più spiata d'Italia, Alessandro, complice qualche bicchiere in più, si è lasciato andare un po' troppo finendo fuori controllo. Oltre al bacio appassionato con Sofì, aspettato da tanto tempo, il bel tentatore di Tentation Island si è lasciato andare anche con soleil sorgè. Così, durante l'ultima notte dell'anno, Alessandro e Soleil si sono lasciati andare ad un ballo super appassionato e anche provocante, mandando su tutte le furie Sofì. Tutto questo ha fatto scaturire una lite tra i due, tanto che Alessandro si è lasciato sfuggire frasi maschiliste, come rivolgersi a sofficco de goni con un ti do un pugno in testa. Ora il web si aspetta un richiamo da parte del grande fratello VIP, perché il limite ieri sera ragazzi è stato altamente superato. E voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti, lasciami un like e iscriviti al mio canale, perché solo così non potrei perderti questo, ma nessun altro prossimo video.